Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. È incredibile avervi entrambi qui a Radio Bruno. Grazie mille a Sting e Shaggy. Come state? Molto bene. È una bellissima giornata con il sole e siamo molto felici. Oh, grandissimo. Essere qui in uno dei miei posti preferiti e siamo qui in radio con una donna meravigliosa. Grazie mille. Non è la vostra prima volta qui a Sting e Shaggy con Chiara Civello. Non è la vostra prima volta qui a Sanremo. Mi ricordo nel 2013 tu Shaggy con Chiara Civello, un duetto. E tu Sting. E nel 1986 con la canzone Russian. Però in realtà ci sono stata anche nel 1995, quindi è la terza volta. Ma in tutto il mondo per me i festival musicali sono importanti. E quindi è bello ritornare. Com'è andato il mio italiano? Molto bene. E' come antico. Ci sono un sacco di parole che bisogna imparare bene. E sono state tradotte da zucchero. Non è una canzone facile, però ho fatto il mio meglio. Parliamo del vostro nuovo album che uscirà il 20 di aprile. Si chiama 44 876. Sono i prefissi della Gran Bretagna per Sting e per la Giamaica per Shaggy. Quindi un misto della vostra cultura, tra i vostri prefissi, le vostre regioni. E vi siete uniti in questo incredibile lavoro. Però a proposito di telefonate, quindi di prefissi, chi è che ha chiamato chi? Io ho chiamato lui. Che devo fare? Vieni in Giamaica. Tu però sei stato in Giamaica negli anni 80 e hai scritto Every Break You Take. Sì, l'ho fatto. Sono stato molto tempo là negli anni 80. È un'isola magica. E sono state delle cose meravigliose. Sono accadute lì. È un'incredibile cultura. Sono stato ispirato per creare questa mia grande canzone. Adoro la reggae music. Sono stato molto influenzato da questo. Ho realizzato grossi progetti in questa isola, quindi grazie, volevo dire grazie. Lo scorso mese ho realizzato con Shaggy questo evento di beneficenza davanti a 15.000 persone a Kingston. Era un modo per dire grazie a loro. Avete subito avuto una grandissima intesa. Avete gli stessi valori, il vostro modo appunto di vedere anche l'amigliente, i vostri valori. Da qui è nato l'album. È tutto nato in maniera organica, naturale. Molto semplice. Abbiamo iniziato da una canzone. E poi un'altra ancora. Quando abbiamo fatto comunque l'album ci sono state delle cose dove abbiamo dovuto indirizzare, però siamo stati sempre in comune. E non c'è stato uno che ha prevalso sull'altro, che comunque voleva il potere rispetto all'altro. Eravamo sempre d'accordo con l'obiettivo finale. E ci siamo uniti in questo progetto. E comunque è anche pieno di canzoni d'amore, che parla di relazioni. C'è molto sole, c'è molto cuore, anima, molta speranza. Il messaggio di questo album è forse un'attitudine nostra di trovare l'amore? Se non trovi l'amore, non puoi trovare te stesso. È vero Sting che hai detto che Shaggy è come un tuo nuovo fratello? Sì, sì, lo è. Mi ha sorpreso questo, perché immediatamente quando ci siamo incontrati è iniziata questa chimica. È più della musica. La cosa speciale tra di noi è difficilissima anche da spiegare. Veniamo da culture differenti. La cosa che ci ha unito di più, io credo, che sia stata la musica. Abbiamo un amore platonico tra di noi, è molto bello. È vero che tu hai incoraggiato Sting a essere più spontaneo? In che modo? Nella musica? Il mio metodo di fare musica è molto differente da lui. È molto caotico. Io inizio dalla melodia oppure dalle parole. Faccio le cose invertite. Tutte le cose sono comunque come tu vuoi che vengano fatte. Abbiamo trovato una complementarietà tra fare le cose. E gli ho detto quindi di essere più spontaneo, di lasciarsi andare. Perché lui è più inventicoloso rispetto a me, per ogni album. E che lui sa come vuole ogni canzone, come deve essere fatto l'album. E questo però album lo rappresenta in un modo positivo. E noi tra 10-15 anni saremo felici del lavoro che abbiamo fatto. Sarete in tour insieme? Oppure non è possibile perché adesso siete in tour da soli? Avevamo pianificato, perché l'energia di questo progetto è così forte. E quindi ce lo immaginiamo. Però siamo in tour separati. Speriamo appunto di unirci e di seguire il tour insieme. Sarà incredibile. Ah, io sono magnifico, anche il tour. Qual è la tua canzone preferita di Sting? Una domanda difficile. Fields of Gold. L'ho visto nell'arena di Verona, è stata incredibile. La tua invece è la canzone preferita di Shaggy? Mi piace... Mi piace... È molto interessante. Mi piace come è narrata la storia. È molto originale anche la musica per quel tempo. Ok, parliamo di Italia. Parliamo di Italia. E se ti dico Italia, qual è la prima parola che ti viene fuori? Cibo! Quale? Pasta, il pesce, anche il vino di Sting. Sì, mi piace molto. Mi piace. Tanta gente mi ha detto che è molto buono. Però è troppo, troppo tirchio, non mi ha dato neanche una cassa, solo una bottiglia. E per te, Sting, la Toscana e il tuo vino... Bella Italia. Parli italiano molto bene. No, non so solo la parola bella. Hai tantissimi cantanti italiani e amici. Adoro l'Italia cultura, la musica e l'industria musicale italiana. È una bellissima lingua. È come una canzone per me sentirla. Grazie, grazie mille. È stato un onore per noi e per Radio Bruno avervi qui. Grazie a Sting e Shaggy.